E' al lato pulito dello sport a Roma, partita nel segno della parità e del rispetto in campo, giornalisti, scrittori, celebrità, ma soprattutto una calciatrice, una direttrice di gara iraniane. Per me che non sono andata mai in stadio in Iran, essere in campo, essere un arbitro, ho portato con me credo 1100 messaggi di miei amiche che in Iran non hanno avuto questa esperienza. Sanam, arbitra iraniana, racconta l'emozione nel dirigere la partita per la parità e del rispetto. Giornalisti, scrittori, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, tutti insieme per tenere alta l'attenzione su libertà, diritti e parità di genere alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In particolare quest'anno sulla situazione in Iran, la calciatrice Shaga. C'è una crisi di diritti umani in Iran, dobbiamo concentrarci su quello che sta accadendo e su cosa possiamo fare per stopparla. Il prima possibile. A organizzare l'evento Amnesty International, asso calciatori, usigrai e la WISP del presidente Tiziano Pesce. Lo sport, ancora una volta, è un linguaggio universale che mette insieme popolazioni diverse ma con un unico obiettivo. Monica Pietrangeli del sindacato dei giornalisti del servizio pubblico. Il mondo dello sport è un luogo all'interno del quale sviluppare delle pratiche di difesa dei diritti e soprattutto di promozione e di rispetto delle donne. Luca Cesaretti, GR1